Siamo in diretta, sono le 7.48, buongiorno a chi ci segue naturalmente in replica oppure un demand sui nostri device, il sito internet piuttosto che le pagine dei social network. Rassegna stampa, che lo metto subito in chiaro, tenderà, cercherà di essere non stress, come si dice, che cercherà di non generare ulteriore ansia a quella che già abbiamo tutti quanti. Quindi vi dico subito che abbiamo eliminato le pagine che tendenzialmente aggiungono poco alla situazione, se volete ci sono i giornali ovviamente in edicola, il giornale è un bene di prima necessità, considerato, quindi potete uscire per andarlo a prendere con tutte le precauzioni del caso. Ebbene, si mette e si dà la possibilità a tutti anche di lavorare. Anzi, a proposito, io ringrazio invece, vedevo poco fa quel po' di pubblicità che ci è rimasta, quindi ringrazio tutti gli inserzionisti che nonostante le loro difficoltà hanno deciso di continuare a promuoversi sul nostro canale e quindi grazie, grazie davvero, terremo conto. Per il resto andiamo avanti con la scaletta e vediamo subito il santo di oggi. Il santo del giorno è San Giovanni Vescovo, il sole è sorto alle 6.44 e tramonterà alle 19.38 minuti. Il tempo oggi sarà cielo sereno con le gelate al primo mattino, fa ancora piuttosto freddo nonostante siamo al 3 di aprile, domani ancora cielo sereno poco nuvoloso e domenica cielo sereno su tutta la costa e con aumento delle temperature. Tempo stabile anche nei prossimi giorni. C'è tanto di cui parlare questa mattina, sui giornali ci sono anche notizie e su quelle ci soffermeremo, ovviamente i buoni spesa, la crisi economica, qualche idea possibilmente per cominciare a pensare a come tornare ad una pseudonormalità. Intanto possiamo cominciare a pensare, facendo una sorta di conta alla rovescia, mettendo un punto fisso a quel 13 aprile, che è il giorno di Pasquetta, sperando di poter ricevere dal governo notizie del tipo allenteremo un po' la morsa. Cosa significherà ancora? Non lo sappiamo, ma speriamo per esempio anche semplicemente di poter andare a prendere un caffè sotto casa senza dover rincorrere in multe. E allora andiamo a vedere subito i quotidiani. Partiamo dal Corriere Adriatico. Intanto c'è il problema dei nuovi ospedali. Lo nuovo ospedale, che è quello che viene chiamato così per facilitare un po' la comunicazione, ospedale 100, quello che il governatore vuole realizzare a Civitanova. C'è un rischio adesso, un rischio di fare marcia indietro. Ceriscioli prende due giorni, dice o dentro o fuori. Intanto Tannoni attacca, i tempi sono lunghi, io mi tiro indietro, mi sfilo. Le terapie intensive intanto sono piene. Ieri purtroppo il Gores ha comunicato altre 54 vittime, di cui una trentina, quelle delle ultime 24 ore, poi le altre invece sono persone che sono decedute nei giorni scorsi, ma i risultati sono arrivati soltanto ieri. Intanto c'è anche, e lo vedremo tra poco, una mappa di 40 comuni che sono praticamente immuni dal coronavirus, comuni delle Marche, che resistono ad oltranza, non hanno nessun contagiato. Poi la polemica dei buoni spese, il titolo, buoni spese alle famiglie numerose penalizzate, a Pesaro il centro-destra non ha dubbi, sono le famiglie con molti figli a rischiare di essere penalizzate a buoni spese, così come li ha concepiti il Comune di Pesaro. Poi c'è il caso agricoltura, ci mancano troppe mani per i campi e anche questo è un problema. Tamponi a domicilio a Pesaro, parte la task force dei giovani operatori, sempre a Pesaro per la Croce Rossa fino a 60 trasporti in una sola notte e poi manca il personale, Villa Fastigi, non riesce a partire. E poi, una notizia di cronaca, sempre sulla prima pagina del Corriere Adriatico, ha la febbre e picchia i carabinieri, sfonda il posto di blocco, arrestato un 32enne brasiliano ieri mattina che ha seminato il panico al confine tra le province di Pesaro e Rimini, in auto con la madre ha sfondato il posto di blocco tra le due regioni, inseguito dai carabinieri, ha colpito un militare dell'arma, aveva la febbre. Questo invece è il resto del Carlino di Pesaro, non ce l'ha fatta il commercialista Paolo Garattoni, poi Santa Colomba salgono a 23, le vittime sono 239 i morti in più rispetto al 2019, Pesaro terza in Italia, l'intervento della procura di Pesaro che dice per bocca del capo Tedeschini Tedeschini, pochi guariti così la quarantena diventa prigionia e poi la storia di Luca, il supereroe con la sindrome di Down battuto, che ha battuto il virus. Poi una fotonotizia centropagina, sanitari test a tutti, esami a caccia degli anticorpi, arriva la svolta e sulla fronte del lavoro invece la cassa integrazione inderoga, l'odissea è un'odissea per la presentazione delle domande. Sotto invece gli aiuti, i buoni spesa, oggi si chiude, molti sono gli esclusi, pioggia di domande, stop alle 17.30 di oggi, tanti nuovi poveri che rischiano di restare fuori. Il progetto 100, dicevamo, di questo nuovo ospedale per 100 posti letto, ordine di Malta, raccolti finora a 950 mila euro, il Presidente risponde alle critiche dette i tempi, aspettiamo la delibera. Eccola qua allora, la cartina geografica pubblicata sul Corriere Adriatico con i 40 comuni immuni e che resistono ad oltranza. Diciamo subito che la provincia di Pesorurbino ne ha soltanto due rispetto al resto della regione e come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, sono Cantiano e Frontino. Sono due piccoli comuni, li abbiamo cerchiati, Cantiano, ve lo faccio rivedere, eccolo qua, è questo qua, vedete il confine con l'Umbria e poi c'è quest'altro piccolino piccolino che è Frontino. Ebbene in questi comuni non ci sono contagi, così come in tutti questi altri che vedete qua, sono 40 come dicevamo, tanti in provincia di Macerata, anche a Ascoli Piceno, pochi a Dancone, in realtà soltanto tre, Castolleone di Suasa, Poggio San Marcello e Serra San Quirico, poi qualche d'uno insomma anche a Fermo, però ecco la maggior parte sono a Macerata e ad Ascoli Piceno. Qui praticamente non ci sono persone contagiate. Ancora dai giornali, caos ospedale dai cinesi a Civitanova, cioè dai cinesi perché anche il medical team, il Shanghai medical team è ancora in patria, ci sono questi problemi burocratici che li hanno praticamente bloccati ancora lì e non riescono a venire in Italia, nelle marche. Il progetto intanto alla fiera di Civitanova si complica e il capo cordata dice qui i tempi sono lunghi e dunque io preferisco tirarmi fuori, mi sfilo. Ceriscioli parla di problemi, certo, ma dice io vado avanti e entro due giorni comunque decideremo. Il nodo impianti rischia di far saltare tutto. Questa è la fotografia praticamente di quella che è la fiera di Civitanova. Il Comune ha messo a disposizione questa fiera. La Regione, la Fondazione Corpo Italiana di Soccorso dell'Ordine di Malta, ha realizzato il progetto. La Regione, se dovesse mettere a bando le opere di layout, cioè cosa significa layout? Tutti gli impianti che bisogna fare qua dentro, riscaldamento, tutti i pavimenti, tutte le cose che servono. Ovviamente se dovesse la Regione mettere a bando ci vorrebbero dei tempi lunghissimi, sappiamo come la burocrazia, e quindi sarebbe impossibile. E quindi bisogna fare con i privati. A Milano, per esempio, c'era un ente terzo, come la Fondazione Fiera, che si è accollata a questi costi per fare i pavimenti, gli impianti, eccetera. Da noi, per esempio, questa cosa non c'è. Ceriscioli però dice io vado avanti, ci sono due giorni per vedere se si può fare. Intanto sul fronte degli imprenditori si sfila il capofila Tanoni. Da dieci giorni dice non ho messaggi, solo comunicazioni controverse, gli imprenditori procedono dunque individualmente. E questo è dunque un problema, tra due giorni vedremo. Intanto le terapie intensive, titola così il Corriere, nelle pagine interne sono piene, Torrette si fa in nove, Torrette di Ancona, ma di mezza tutto il resto. Sempre Ceriscioli dice pazienti già intubati aspettano che si liberi un posto letto. L'ospedale regionale moltiplica le aree Covid e sacrifica 310 posti letto. Il Carlo Urbani invece di Iesi, c'è un altro ospedale che è appunto quello di Iesi, il Carlo Urbani, che è stato profondamente trasformato dall'emergenza coronavirus, con 106 posti su un totale di 200 occupati da pazienti positivi. La testimonianza questa mattina di Mirko Carloni sul Corriere Adriatico che dice io sono positivo al Covid e la vitamina B7 che mi fa tornare il respiro. Mirko Carloni sta seguendo la ricerca del professor Bizzarri, ha appena effettuato il tampone che potrebbe decretare la fine della sua battaglia contro il coronavirus, sta aspettando contropidazione e risultato per uscire dall'isolamento che lo ha costretto alla lontananza forzata dalla famiglia in particolar modo. Ancora porta i segni dell'infezione. Lui racconta al Corriere di questa mattina, dice sono debilitato, la notte faccio ancora fatica a respirare, ma ne sto uscendo. Piano piano io mi reputo fortunato, insomma in queste settimane ho perso amici carissimi, altri stanno combattendo tra la vita e la morte. In ospedale questo virus è terribile. E poi c'è il racconto che fa sulla speranza che è arrivata da Roma con la ricerca scientifica del professor Mariano Bizzarri che è famosissimo oncologo e saggista italiano, è un ricercatore, ritiene che con questa vitamina B7 potrebbe essere utile per contrastare la sintomatologia respiratoria dovuta appunto al Covid-19. C'è questa ricerca, insomma si è prestato per questa terapia sperimentale che a quanto pare appunto sta dando buoni frutti. Mentre sul resto del Carlino c'è l'intervista alla procuratrice di Pesero Cristina Tedeschini che spiega perché le quarantene non possono essere infinite. La procura dice se ai pazienti non viene certificato il fine periodo diventano prigionieri. Il confronto con le altre regioni è impietoso. L'Emilia Romagna segna il 10% così l'Abruzzo. Invece noi siamo soltanto all'1% dei malati che torna fuori. Questa è una domanda che insomma ci si è posti. In Emilia Romagna i guariti sono il 10% dei contagiati, anche nell'Abruzzo, insomma in Toscana che superano il 5%. Invece da noi nelle Marche questo trend è ancora così bassa. In questo auspicato ritorno, dice la Tedeschini, alla normalità il decreto legge rappresenta un autentico momento di svolta perché riporta nel campo delle sanzioni amministrative la punizione di condotte di cui fin da subito si è fatta grande fatica a percepire la concreta lesività. Con questo intervento restano penalmente sanzionate con maggiore gravità le sole condotte di violazione della quarantena. Si tratta di comportamenti certamente gravi e meritevoli in astratto di essere puniti come reati. Per cui ci sono due problemi non di poco conto. Il primo è che appunto le procedure di imposizione della quarantena sono molto informali, più o meno si tratta di una telefonata, situazione che rende complicata la verifica. Insomma tutto un ragionamento che vi invito però a leggere per correttezza anche le confronti di Roberto Damiani che ha scritto questo articolo che ci ha perso del tempo, cioè ci ha dedicato, non perso, dedicato del tempo e quindi insomma è giusto che ve lo leggiate voi sul giornale che troverete in edicola questa mattina. Allora altre 30 multe per essere usciti senza motivo. Una donna si è inventata la falsa visita medica, oltre 1200 le verifiche a persone che sono state fermate mentre erano a piedi oppure in auto o in bicicletta in tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Quindi come vedete i controlli ci sono, i controlli vengono effettuati ogni santo giorno e nonostante siano state anche inasprite le multe, soprattutto la parte pecuniaria perché insomma buttare 400 euro fino a 3-4 mila euro per una passeggiata io ci penserei prima di andare a rischiare così tanto. E comunque sanitari, testa a tappeto, esame a caccia di anticorpi, le Marche rompono gli indugi e dunque c'è questa delibera pronta per essere firmata, la prossima settimana si partirà nell'azienda ospedaliera Marche Nord. Gli infermieri positivi, gli infermieri sono i più colpiti, chiaramente sono quelli in prima linea e dunque quelli che vengono purtroppo contagiati con più facilità. E quindi ci sono questi nuovi test a caccia degli anticorpi. Adesso abbiamo bisogno di capire come fronteggiare questo virus. Va bene il vaccino, va bene tutto, ma c'è anche il discorso degli anticorpi. Ed è questa una nuova frontiera di questa lotta, l'esame utile quindi ad accertare l'avvenuto contatto e dare l'eventuale patente di immunità. Dopo qualche tentennamento le Marche imboccano con decisione la strada delle indagini immunologiche su larga scala per individuare il maggior numero possibile di casi positivi tra il personale sanitario. Indagini che non escludono gli esami biomolecolari, quindi anche i tamponi, che continueranno ad essere l'esame di elezione, ma che agiranno in maniera combinata con essi nel momento in cui si dovessero riscontrare parametri anomali nella platea degli esaminati. E soltanto in una notte, e qui veniamo alla parte pratica, logistica di questa emergenza, cioè il trasporto per esempio dei pazienti che chiamano il 118 perché hanno sintomi, febbre, crisi respiratorie e quant'altro, e soltanto in una notte racconta il Corriere Adriatico oggi sono stati trasportati 60 pazienti. La Croce Rossa sta smistando la maggior parte delle chiamate che arrivano al 118 e loro dicono facciamo circa 150 viaggi nelle 24 ore, una cifra triplicata rispetto a quello che avviene ordinariamente. E poi c'è il supporto psicologico a chi è in difficoltà, un servizio gratuito offerto dalla Soroptimist. È l'assistenza psicologica, è un servizio che appunto viene fornito chiamando, scrivendo ad un numero WhatsApp che trovate sul giornale di questa mattina, ve lo faccio vedere cerchiato qui in questo momento, oppure ci si può rivolgersi, ci si può appunto psicologhechioccio.it. Mentre i tamponi e le terapie domiciliari, in azione ci sono queste squadre di giovani coordinati da medici e pediatri d'esperienza, dottori e infermieri che vanno, questo doveva essere fatto ahimè molto 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 prima, ma meglio tardi che mai, vanno nelle case. Il primo passo verso la presa in carico dei malati e dei familiari dimenticati. Dunque è quel famoso servizio, quelle piccole micro unità formate appunto da medici, pediatri, insomma di esperienza, dottori, infermieri che vanno nelle case, tutti debitamente protetti, come vedete in questa fotografia, che entrano dunque nelle case dei pazienti. entro questo fine settimana potrebbero già essere operative queste squadre, chiamiamole così, squadre speciali. Si lavora costantemente e per questo l'ordine dei medici ha formato sul territorio una squadra di nove coordinatori a turni di sei ore al giorno, con il compito di entrare a contatto con il medico di base e con i medici USCA. Un filtro necessario, questo per raccogliere ed inviare tutte le segnalazioni dei pazienti che hanno la necessità di essere visitati, alcuni già sottoposti ad un primo tampone e altri che sono già in isolamento, malati e ancora in attesa del test. Dallo scambio fra medico di base e coordinatori uscirà una lista con le priorità di visita per chi è affetto da Covid. Non so se avete capito, nel senso che per chi avesse questa necessità è chiaro che il primo contatto è il medico di base, bisogna chiamare il proprio medico di base che poi fa partire questa segnalazione, vengono fatte delle graduatorie, si capisce che è il più grave, chi ha bisogno per primo, chi ha bisogno, chi può aspettare ancora un pochettino. Ma poi con questa squadra di intervento tutte le persone che sono in questo momento a casa, che hanno sintomi, che stanno male e che non possono uscire, ovviamente, finalmente avranno la visita di questa squadra, questa unità, chiamiamola così, speciale, formata da medici e pediatri di esperienza. Una cosa che andava fatta prima. Eh vabbè. Mancano medici ed infermieri, Villa Fastigi non può partire, siamo sempre sul Corriere Adriatico, un complesso gioco di incastri con la struttura riabilitativa di Macerata Feltria. Brizzioli, che è l'amministratore delegato del gruppo COS, parla anche di un'ipotesi chiusura per sanificare tutti gli ambienti. Intanto questa è la fotografia del checkpoint, che vi abbiamo fatto anche vedere il telegiornale di ieri, al Codma di Rosciano di Fano, dove sono stati testati i primi 30 pazienti, 30 persone che sono uscite quindi dalla quarantena, hanno effettuato ieri mattina il primo dei due tamponi per confermare la completa guarigione dal coronavirus, che si sono presentate all'ingresso del centro ortofrutticolo del Codma a Rosciano di Fano, inaugurando così di fatto questo laboratorio dedicato appena aperto dall'Asur. Le operazioni si sono svolte con regolarità, seguite da quattro medici del sistema sanitario pubblico, ai quali hanno dato una mano anche ai volontari della protezione civile e della Croce Rossa, con mansioni di guardiania, segreteria e viabilità. Una volta pronto l'esito del primo esame, gli uffici provvederanno poi a fornire data e orario del secondo controllo, del secondo tampone. Ricordo ancora una volta che sono tamponi che vengono effettuati solo per chi è arrivato in fondo a questo decorso e quindi sono persone che vengono chiamate e quindi convocate dall'Asur, quindi non ci si può presentare così spontaneamente. I voucher invece, qui parliamo della vita di tutti i giorni, la spesa, i soldi, i voucher per la spesa a famiglie numerose penalizzate dai criteri, così titola il Corriere Adriatico, il centrodestra presenta a Pesaro alla Giunta un documento per chiedere alcune modifiche. Assurda la griglia degli sbarramenti, anche in questo caso si privilegiano i singoli. Intanto vi ricordo che c'è tempo fino a questo pomeriggio alle 17.30 per presentare le domande al Comune di Pesaro per accedere ai voucher da spendere nei supermercati e nei piccoli negozi della città, nelle farmacie e altre attività che vendono beni di prima necessità. Ultime ore anche qua sul resto del Carlino, il titolo per chiedere i buoni spese del Comune, oggi alle 17.30 a scala del termine, sono 25.000 i voucher in un taglio da 20 euro ciascuno che verranno portati nelle case, quindi verranno portati direttamente nelle vostre case. Confidi, la rivolta contro la proposta di Carloni, un accredito del 10% direttamente sul conto corrente da parte dello Stato sulla base del fatturato degli anni precedenti. Questa è la proposta, cioè il 10% quindi di quello che è stato fatturato negli anni precedenti, direttamente nel conto corrente degli operatori, degli imprenditori, dei ristoratori, però questa proposta non piace. E nel mirino c'è finito il consigliere di Giorgia della Lega che ha lanciato l'accredito diretto da parte dello Stato alle aziende, raffica di reazioni. In questa foto vedete sia Mirko Carloni che Gino Sabatini della Camera di Commercio, che dice, Sabatini, sarebbe una mazzata, specie per le nostre micro e piccole imprese, mentre CNA è confartigianato, dice, il ruolo di Confidi andrebbe potenziato con risorse regionali e nazionali. Poi le associazioni dei proprietari, affitti, mano tesa sui contratti, i rappresentanti si sono riuniti in video per fare luce sul momento di questa emergenza. Intanto c'è un settore, un altro settore, il settore di, oltre alla crisi nera, imprenditori preoccupatissimi, il Comune ci aiuti, magari non facendo pagare certe tasse ai cantieri che sono fermi. Mentre i positivi al coronavirus che sono a casa, ovviamente, devono sapere che Aset andrà nelle loro case per prendere i rifiuti. È stata avviata, infatti, questa raccolta dei rifiuti a domicilio per persone positive al coronavirus o che sono in isolamento precauzionale nelle loro abitazioni. Sono circa 200 i cittadini che si trovano in queste condizioni, i residenti tra Fano e i comuni serviti dall'azienda fanese. E quindi, secondo quanto stabilito anche a livello regionale, il personale di Aset, che è dotato di tutti i dispositivi per la protezione civile individuale e quant'altro, con veicoli anche dedicati, consegnerà alle persone segnalate dall'Asur il kit monouso per il conferimento dei rifiuti. Quindi, se siete a casa in queste condizioni, sappiate che riceverete questo kit monouso per mettere dentro i rifiuti che poi passerà Aset a prendere in modo esclusivo. Per quanto riguarda le altre notizie, i lavori pubblici al via subito dopo Pasqua, cantieri pubblici pronti a ripartire dopo le festività o comunque non appena si allenteranno le misure restrittive imposte dal governo. E poi, Domenica delle Palme in versione inedita, ormai ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa, fisicamente non ci sarà nessuna distribuzione dei rami d'ulivo benedetti e la festività sarà blindata dalle regole per limitare i contagi. Per chi lo desidera, i ramoscelli saranno consegnati in alcuni supermercati, ma in alcune parrocchie si rinuncerà addirittura ai simboli. La messa invece verrà trasmessa in diretta su Facebook, ma anche noi abbiamo già, come detto ieri, tutto un programma per seguire la Settimana Santa della Diocesi di Fano, dove la nostra emittente ha la sua sede. L'effetto coronavirus, come vi ho detto, Romano Lorenzi del Piccolo Mondo, un noto ristoratore, c'è poco da ridere, in questa fotografia c'è scritto come di Nascalia, la foto è di qualche mese fa, quando chiaramente si poteva ancora stare tranquilli e sorridere, oggi invece scrive nella Diascalia il giornale, ora c'è poco da ridere, perché pranzi di cresime e comunioni, tutto quanto rinviato per i ristoratori, dunque un'altra mazzata. La bella storia di Luca invece, sempre sul Carlino, il supereroe che ha sconfitto il virus dopo settimane di ansia, una 44enne con sindrome di Down è uscito vincitore, e lo vedete mentre fa il segno della V, della vittoria, la gioia immensa di familiari ed amici, aveva rinunciato a vedere una partita con la Juventus perché non si sentiva bene, lui è un tifoso dell'Inter. Intanto Totaro, il pensiero della famiglia mi ha dato la forza di riprendermi, parla il consigliere comunale Francesco Totaro della Lega, 38 anni, che è tornato a casa da un paio di giorni dopo essersela vista brutta in terapia intensiva, prima al San Salvatore e poi all'ospedale di San Benedetto del Tronto. Tutto è iniziato, racconta lui, il 9 di marzo. E poi da Senigallia invece addio a Barbarino, Severini, l'ultima pedalata, addio al super campione di ciclocross. Antonino aveva 89 anni e un palmarès degno di una gloria delle due ruote. Ha vestito persino la maglia azzurra, ex campione appunto di ciclocross. Anche un'ultra ottantenne macinava a chilometri. Cioni e Meloni hanno scritto la sua biografia. Il palazzo comunale sarà sanificato. Siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Il palazzo del Comune coperte le spese di protezione civile, erogazioni straordinarie per far fronte all'emergenza e acquistare dispositivi di sicurezza. Congelati tutti i concorsi in atto, compreso quello per assumere due giornalisti. Intanto il sindaco Massimo Seri ha convocato per oggi alle 16.30 una videoconferenza con tutti i gruppi consigliari per trattare il tema appunto dell'epidemia. Buoni spesa. Invece, sempre sulla pagina di Fano, istanze a raffica, quindi molte sono state le domande, in tilt i telefoni e i siti online. Il disagio è stato segnalato da Luca Serfilippi della Lega, risolto poi dal servizio informatico del Comune. Galdensi ha detto che c'è tutto il tempo, insomma, quindi stiamo assolutamente tranquilli. Buoni pasto. Attenzione, sulla pagina del resto del Carlino qui c'è la notizia che i supermercati si tirano indietro. Alcuni, infatti, non accettano questi buoni pasto. I cittadini protestano. Contestato il costo delle commissioni ad una società che li gestisce, interviene dunque il Comune. Ci sono tra i supermercati che li rifiutano la rabbia dei cittadini, alcuni costretti a fare dietro fronte dopo lunghe attesi di fila. Sono adesso sotto accusa questi buoni pasto gestiti dalla Enderder Italia SRL, l'azienda con cui il Comune ha la convenzione. Sono stati rifiutati da molti punti vendita che ritengono alte le commissioni e molto lunghi e macchinosi i tempi di rimborso. Dunque si cerca una soluzione. Si vuole evitare che gli utenti arrivino alla cassa e poi si sentano rifiutare questi buoni. La piattaforma dei ticket invece va a KO. Il Comune di Fano corre subito ai ripari, scatta la corsa a questi buoni spesa. Nella mattinata di ieri la piattaforma del Comune per l'autocertificazione ha registrato un picco di 3.000 contatti, 1.070 gli accessi e 160 le domande compilate e già inoltrate. Una buona notizia riguarda la distribuzione dei buoni spesa. I primi 60, quelli che riguardano le famiglie già in carico ai servizi sociali, saranno consegnati nella giornata di oggi dai volontari della protezione civile. Quindi tra tutti coloro che ci ascoltano in questo momento a Fano e che sono già seguiti dai servizi sociali, sappiate che questa mattina comunque in giornata arriveranno i volontari che vi daranno questi buoni spesa. Andiamo ad Urbino, Corriere Adriatico, ospedale abbandonato. Urbino non se lo merita, dice l'assessore alla sanità del Comune Elisabetta Foschi, che ribadisce lo stato di promiscuità tra i contagiati e gli altri degenti dopo le denunce dei sindacati. Con i buoni pasto invece, sempre Urbino, abbiamo pensato e più bisognosi, dice il sindaco Maurizio Gambini, che spiega perché ha imposto criteri decisamente severi. Buoni spesa, più tempo per le domande. L'opposizione consigliare chiede di fare qualche aggiustamento, sempre Urbino, nella scelta dei criteri. Allo studio anche un nuovo bando comunale. Ampio dibattito viene fatto anche perché non tutti i comuni usano gli stessi riferimenti. La Scuola del Libro distribuisce invece le attrezzature agli studenti. Qui ci sono i volontari dell'Associazione della Protezione Civile di Fermignano, che partono per la consegna dei dispositivi agli alunni della Scuola del Libro. L'ultima pagina del resto del Carlino, parliamo ancora di turismo. Qui vedete Fabrizio Oliva, che è il presidente degli albergatori di Pesaro, che vede nerissimo e per lui la stagione, dice, è compromessa. Lavoreremo due mesi, dice Oliva. Perderemo per Pasqua un milione e mezzo di euro. Ci vorrebbe anche un aiuto concreto da parte di marche multiservizi. Per esempio dovrebbe venirci incontro, dice Oliva, nei pagamenti e nelle tariffe. Di fatto ad oggi ha posticipato di 30 giorni il pagamento delle bollette, ma non ha sospeso la rateizzazione in corso, se non quella per il mese di aprile. Per il rappresentante dei proprietari di alberghi, la clientela era soprattutto Veneta e Lombarda e dunque c'è poco da sperare. Insomma, la situazione è complicata. Intanto Talè, il consigliere regionale, chiede di autorizzare i bagnini a tornare in spiaggia. L'Emilia Romagna l'ha già fatto, anche altri hanno dato già il via libera e quindi si tratterebbe di consentire ai gestori delle spiagge di recarsi nei propri stabilimenti per svolgere alcuni lavori di manutenzione e di ripristino. Chiaramente ancora parlare di estate, di come sarà la nostra estate, questa estate 2020, è un po' un'incognita. Bisognerà vedere soprattutto anche se questo distanziamento sociale continuerà oppure no. Posso immaginare la disposizione degli ombrelloni, fino a ieri tutti appiccicati come sardine, se ci sarà questo distanziamento sociale anche nei prossimi mesi, perché c'è il pericolo che ci possa essere la seconda ondata in autunno di questo Covid, finché non arriverà il vaccino. Insomma, saremo costretti a conviverci e starci soprattutto alla larga. Posso immaginare in spiaggia ombrelloni distanziati e quindi sicuramente con molti meno posti, eccetera, eccetera. Ma comunque sono tutte ipotesi. Per ora abbiamo altri problemi. Intanto i motopescherecci che tornano, e questa è una buona notizia per esempio, tornano di nuovo in mare, la gente vuole mangiare il pesce, molti armatori hanno ripreso il largo dopo 15 giorni di fermo, tornano in mare con i grandi motopesca sia a Fano che a Pesaro e dunque ieri notte hanno riacceso i motori perché insomma sono andati a pescare. È arrivato ieri mattina anche del pesce fresco sia a Pesaro che a Fano. Però voglio concludere con questo racconto raccolto dal resto del Carlino e a parlare è un comandante, uno dei comandanti dei motopesca che a un certo punto, essendosi spinti fino al limite delle acque territoriali croate, ad uno dei comandanti è stato detto, anzi ha ricevuto una telefonata da parte di una capitaneria del paese, quindi croato, paese dall'altra sponda, di questo tono, non avvicinatevi perché venite da un paese non desiderato. E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, vi saluto, vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.